Motociclismo Motociclismo, alla Yamaha alla 8 ore di Suzuka Kanakasuga, l'OSW di Mark vincono in Giappone, Kanepa campione endurance con il team GMT 94. La Yamaha firma la tripletta consecutiva in casa della Honda e festeggia la sua settima vittoria nella 8 ore di Suzuka, ben più di una normale gara di endurance. Con al via tanti piloti di Moto Mondiale Superbiche, l'edizione numero 40 della corsa motociclistica giapponese, caratterizzata da pioggia a intermittenza, ha visto il dominio della R1 ufficiale affidata a Katsuyuki Nakasuga e ai piloti del Mondiale Alex Loves e Michael Van Diermark. . Sul podio con loro sono saliti anche gli equipaggi di Kawasaki, Aslam, Watanabe e Kamarutsamen, e Honda TSR, Aigerter, De Pugnye e Oak. . Quarto posto amaro per Jack Miller, in pista con la Honda Arc Pro insieme a Nakagami, caduto e poi vittima di una foratura, e Takashi. Ma a Suzuka anche l'Italia è stata grande protagonista. . Grazie a Niccolò Canepa, che con la Yamaha del Team GMT 94 e i compagni David Checa, fratello di Carlos, e Mike Di Meglio ha conquistato il titolo mondiale di endurance grazie all'undicesimo posto finale. . E la prima volta per un nostro pilota? Gara costellata da tanti problemi, invece, per Raffaele De Rosa, al via con una BMW, che pure era scattato dalla tredicesima posizione in griglia. .